eccoci qui oggi parliamo della tragedia dei beni comuni arden un economista di fine anni 60 ha fatto un esempio c'è un pascolo in comune un pascolo in comune che viene messo a disposizione di tutti quanti gli allevatori di mucche che vogliono far pascolare le proprie mucche ogni singolo allevatore all'interesse che più mucche possibili possono andare a pascolare in un pascolo comune qual è il problema che se ogni allevatore in maniera razionale comincia a ragionare dicendo più mucche mando al pascolo meglio è per me chiaramente si arriverà a un punto in cui questo bene comune che è il pascolo diventerà sovrasfruttato rispetto alle proprie capacità e di conseguenza non produrrà più erba perché ne viene mangiata di più di quella che viene prodotta sostanzialmente il tema è molto di attualità se ci pensate perché se al posto del pascolo pensiamo di mettere le risorse del nostro pianeta pensiamo il fatto di essere 7 miliardi e 700 milioni di abitanti e che bene o male a metà di luglio di quest'anno siamo arrivati ad utilizzare tutte le risorse che sono state prodotte nel pianeta vi rendete conto che i beni comuni che non sono solo l'acqua ma tante tante altre cose cominciano a diventare veramente una tragedia in quanto effettivamente vengono a scarseggiare soprattutto se ognuno pensa ai beni comuni con una cosa di cui può utilizzare fare utilizzo quanto e come preferisce torneremo a parlare di questo un po più avanti ma come avete visto l'economia in certi aspetti ha già anticipato problematiche che oggi notiamo ma che erano chiare ed insite in un concetto molto semplice che è quello dell'avidità una persona che desidera avere meglio per se stesso a volte non riesce a vedere il bene comune ci vediamo domani ciao a tutti